Amore, sai una cosa? C'è un assassino in libertà. Ti racconto una storia. Hai mai sentito la storia del... Orsai, il portale. Allora, c'era una volta un insetto gay. Signor gay per te. Come tua sorella, e non è un cazzo. Correva sempre dappertutto. Una volta le disse... Sono andato, sono drogato. Mi hanno circonciso. E qual è la morale, papà? La morale della storia è che... La droga mi è piaciuta. Tua sorella poi potrà insegnare anche a te come fumare la droga. Claire, i maschi amano fare insieme delle cose che sono alquanto... Beh, gay. Tu fai, capisci? Stai dicci, i genitori fesciano pronto? Pronto, mamma. Ciao, tesoro. Ti cambi la biancheria ogni giorno? Sì. Quel ragazzo potrebbe avere problemi intestinali. Ehi, Giulio. Ho comprato uno spinello. Una fumata. Non lo so, dottore. Adesso vado in Cina. La Cina è appena stata colpita da un milione di maiali più pericolosi della terra. Scenderò nei più oscuri cessi della Cina, dove lotterò per migliaia di anni con i contadini da frutto comunisti. Vergogna! In questo tipo di scalate bisogna usare soprattutto la forza del pene. Non immaginate quanto è potente. La paura! Non immaginate quanto è potente.